Buongiorno, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ho cambiato la copertina del canale, ho messo solo Eli Valsecchi perché tanto anche se uno cercava con disordine creativo non so se si trovava, quindi Eli Valsecchi è finita la storia. Così cambio la copertina a stagione, che mi piace di più. Allora, oggi avevo un po' di tempo, video dei prodotti finiti. Sono un bel po' di prodottini, Lucia si sta ricordando di passarmi i suoi finiti, l'ho istruita ben bene e quindi vediamo un po' di cosine che abbiamo finito. Tanti top, tanti prodotti buoni, pochi pochi prodotti flop, anzi forse solo uno o due. Fuori da noi, qui fa un caldo allucinante, sono appena tornata dal giro con la mia mamma, cimitero, spese e quant'altro, ci sono 35 gradi fuori. È veramente mostruoso. Ieri qui a Lecco, non so se comunque in quasi tutta la Lombardia temporale, da noi sembrava stessa arrivando alla fine del mondo. C'erano le piante del giardino che si piegavano, grandine, c'era tutta la vita, insomma. Vabbè, oggi un sole che, come si dice da noi, spacca il culo ai passeri. Non è una volgarità, è un modo di dire. E quindi nulla, partiamo con i prodotti finiti. Prodotto no, 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 assolutamente. Questo l'ho finito io. Ho sentito già tante persone che non si sono trovate bene. Allora, io non mi sono trovata bene non perché il tonico non sia buono, non lasci la pelle morbida, ma che praticamente sentivo soltanto l'odore dell'alcol. Con un leggerissimo sentore di rosa, rosa e alcol, sembrava di mettere sulla faccia l'alcol profumato per le pulizie casalinghe. Quindi mi spiace, non lo ricomprerò più, non mi è piaciuto. Ma sulla pelle era anche buono, ma appena lo si mette con il batufolo, anche sugli occhi, cioè non sugli occhi, sotto gli occhi, fastidiosissimo. Mi spiace, ma non mi è proprio piaciuto. Finalmente l'ho finito, l'ho usato anche sul batufolo così ne consumavo di più. No, non mi è piaciuto. Canestro. Finito io questo deodorante Infasil. Mi è piaciuto davvero, davvero tantissimo. Non macchia, dura veramente qua dice 48 ore, nel senso che ho provato, ho fatto la prova, a sudare, sudare, lavarmi, non applicarlo per due giorni ed effettivamente funziona. Funziona. Poi vabbè, io lo metto perché mi piace comunque il profumo, è un profumo molto fresco, un profumo di limone, di agrumi. Mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo. Con molecola 2C, più sudi, più 6 di fresco, questo non lo so, nel senso che dovrei chiederlo a chi mi sente. Deodorante No Alcol. Buono. Lo dovessi trovare ancora in offerta come l'ho trovato in offerta, lo ricomprerei sicuramente. Poi. Detergente intimo con antibatterico, idratante, latte di mandorla. Questo l'ho finito io, mi è piaciuto tantissimo. Sto cominciando a provare anche gli altri prodotti di Avenil e secondo me sono veramente, veramente buonissimi. Sono oggi andata a fare la spesa all'Iperal e ho visto che sono ancora tutti in offerta, quindi, ma penso siano in offerta, li ho visti in offerta anche su altri volantini, non so se l'S Lunga o il Bennett o queste cose. Francamente sono dei prodotti veramente, veramente molto, molto buoni. Con questo io mi sono trovata benissimo. Questo l'ho finito io e questo l'hanno finito i ragazzi e anche Lucia mi ha detto, vabbè, a Mattia non chiedo come il detergente intimo. Lucia mi ha detto che si è trovata bene, molto, molto fresco, malva e camomilla anche molto, molto delicato. Quindi ottimi prodotti e se li ritrovo, adesso ho preso altri prodotti in offerta, però li prendo sicuramente. Shampoo Natural Beauty di Balea, questo l'ha usato Lucia e l'ha usato anche Mattia, mi hanno detto che è molto buono, molto, molto delicato. Loro fanno lavaggi frequenti, doccia tutti i giorni, shampoo tutti i giorni e non è aggressivo, è delicato. Ha un buon profumo, molto delicato, avvolgente di fiore, un profumo molto morbido. Poi, ecco, per quello che costano e se sono buoni vanno benissimo, devo ritornare al DM prossimamente. Poi, finiti questi bastoncini di cotone in carta di cotoneve, non mi piace che abbiano il contenitore in plastica, li ho ritrovati ma con il contenitore di cartone e ho preso quelli. Comunque, questi li avevo in scorta e li ho finiti e basta. Comunque, per quello che li uso io sono buoni, insomma. Buono, questo sapone della Green Pharmacy, alla rosa damascena e al burro di karité, penso. Ho tradotto dall'inglese, vediamo se ho indovinato. Sì, ciao, va bene. Facciamo che ho indovinato. Buono, un sapone molto molto cremoso, molto delicato. Io vi ho detto che uso il sapone soltanto per lavare le mani, ma devo dire che quando lavo le mani, con questo ce l'ho nei due piani, lascia le mani morbide come se io avessi già messo un filo di crema, quindi buono. Io l'ho trovato in offerta a zero, 99 centesimi al tigotà, quando sono andata l'ultima volta erano ancora in offerta, li ho ricomprati perché sono davvero molto buoni. Ci sono, mi pare, in tre o quattro profumazioni. Finito il mio mitico olio da massaggio anticellulite. So che a qualcuno può non piacere, giustamente perché tra i primi ingredienti c'è la paraffina, se non ricordo male, esatto, paraffina liquida. Io mi sono trovata benissimo e devo dire che l'ho messo anche in questi ultimi giorni, che faceva molto caldo. Non mi ha assolutamente dato fastidio sulla pelle, non trasudava e a me dà l'impressione che comunque la mia pelle sia molto più compatta, molto più soda. Poi da lì ad avere il miracolo di San Gennaro sicuramente no, però qualcosina su di me ha fatto. Quindi adesso ne ho un altro che ho comprato, non mi ricordo se di questo o se di Provenzali, e ne ho uno che ho comprato di DM apposta per la cellulite, però questo secondo me d'inverno-autunno è buonissimo perché ha anche un effetto leggermente riscaldante, se lo massaggiate un po' a me, è piaciuto veramente tantissimo. Profumato, da spa, buono buono buono, per me è top. Infatti l'avevo messo anche nella lista dei preferiti, se non ricordo male. Altra crema che andrà sicuramente nei preferiti dell'anno, questo spettacolo di Caudalie. Io mi sono trovata benissimo. Vino Source Hydra, Vino Source Hydra, Gelé Deux, se con l'inglese non sono brava figuriamoci, con il francese. È un gel idratante, diciamo così. Vediamo se abbiamo la... Allora, applicare al mattino e alla sera su viso, collo, da solo o dopo il siero. Adesso a parte gli scherzi, comunque Caudalie non mi delude mai. L'ho proprio finita fino al... cioè non ce n'è proprio più. Sicuramente la ricomprerò. Adesso altre creme. A parte il profumo... Inebriante, ragazzi. Ve la faccio sentire anche a voi, anche se non la sentite. Mamma mia. Buonissima. Si assorbe... Ecco, guardate, ce n'è ancora un cicinino. Si assorbe in un nanosecondo, vi lascia la pelle freschissima, profumata. A me è piaciuta tantissimo, tantissimo, tantissimo. Morbida. Buona, buona, buona. Questa va sicuramente nei preferiti dell'anno. Ottima. Finito. Finalmente non ne potevo più, non perché non fosse buono, ma perché dopo un po' che i prodotti sono lì, mi viene nervoso perché voglio prodare altri prodotti. Questo contorno occhi di Corpo Libero, che è, se non ricordo male, un brand che ha... Oh, mamma mia, quella profumeria... Catena... Mariano. Mariano. L'ho comprato da Mariano un bel po' di anni fa. Scaduto sicuramente il PAO, ma lui non puzzava. E comunque la texture è ancora buona. L'ho finito. Lo mettevo come contorno occhi da giorno. Un gel, vediamo se c'è ancora qualcosina. Un gel leggermente colorato, no, non c'è proprio più niente. Si assorbe velocemente. Più che altro l'ho trovato idratante e molto leggero. Niente di miracoloso. Anche perché, se non ricordo male, non costava poco in confronto ad altri contorni occhi. Comunque è finito. Meno male. Basta. Niente di che. Nulla di particolare. Finiti questi. Carta calla. Due veli. Cento salviettine. Comprate al Tigota nei cestoni al 0,99 per quello che servono a me. Fanno il loro dovere. Sono buone. Io le uso per pulirmi mentre magari mi sto truccando che provo i colori delle palette. Oppure le uso per tamponare magari al pomeriggio il lucido del viso sul trucco. Buone. Lucia ha detto che questa è ottima. Io questa non l'ho ancora provata. Le sto nascondendo perché me le sta facendo fuori tutte. Ho detto che è profumatissima. Sa veramente di... Lei diceva di tipo bacche di mirtillo ma non è mirtillo perché è acai. Penso di sì. Comunque 100% detergenti delicati, senza solfati, senza sless. Lei la usa sia come mousse doccia che per depilarsi e capite voi che ne vanno fuori a centinaia. Gli è piaciuto? Gli è piaciuto. Infatti li ho trovati in offerta l'ultima volta sia all'Iperal che da Eurospin a 1,99€ e ne ho comprate un bel po' perché sono proprio buone. Poi finito questo Pur Clean Eyes Helips Struccante Occhi e Labbra. Allora io non compro generalmente struccanti per occhi e ne ho qualcuno in scorta quindi cerco di finirli. Quindi questo l'ho finito, era vecchissimo, non so neanche se esiste più, della Kiko. L'avevo chiuso, poi l'ho trovato nell'armadietto dell'Escorto e ho detto vabbè lo usiamo. Strucca, non completamente al primo tocco. La cosa che non mi è piaciuta tanto è che mi sembrava molto molto le uso. Però vabbè il suo l'ha fatto, poi comunque io ci passo sempre, faccio sempre la doppia detersione quindi va bene qua tolgo proprio il grosso. Poi non usando prodotti waterproof va bellissimo. Non lo ricomprerei soltanto perché non sono prodotti che uso abitualmente. Poi qua abbiamo tante di quelli. Questa l'ho fatta l'altro giorno ragazzi. Fantastica. Fantastica, fantastica, fantastica. Le ho comprate l'ultima volta che sono andata alla Kiko. Questa mi è piaciuta veramente, veramente tantissimo. Sono maschere in hidrogel. Questa e l'altra non l'ho ancora portata qua perché aveva dentro un sacco di siero. E quindi me lo sto proprio godendo in queste ultime, cioè già forse la terza volta da tanto siero che c'era. Ma devo dire che sono veramente, veramente molto buone. Quando sono andata io alla Kiko un po' di tempo fa c'era l'offerta 3x2 sulle maschere. Quindi ho preso sia quelle del viso che se non ricordo male anche quelle degli occhi. Buona. Ma se dovessi trovarla ancora in offerta la compro di sicuro perché mi è piaciuta veramente tanto. Come? Mi è piaciuta tanto questa alla vitamina C. Anche questa con tanto siero. L'effetto dopo averla tolta è davvero di una pelle molto molto luminosa. ma generalmente queste maschere sono tutte tutte belle. Fatta questa. Allora se voi non vi spaventate. Oh guarda che metto. Io questa vi metto una foto che ho fatto mentre la stavo facendo. Perché qualche amica mi ha detto ma che cos'è la maschera Bubble? Ma come funziona? Ma com'è sulla pelle? Allora io per sacrificarmi alla community dei pazzi che mi seguo, ho fatto una fotografia. Io la metterò qui. Sono sicura. Se vi spaventate capirò subito perché ci sarà tantissima gente che si disiscriverà dal canale. Che mi metterà ancora più non mi piace di quanti me ne mette adesso. e volevo soltanto avvisare chi mette il non mi piace che comunque gli altri non lo vedono. Quindi lo vedo solo io e a me francamente non mi interessa. Quindi ci sta che a uno non gli piace. Io generalmente se vedo un video che non mi piace non finisco neanche di guardarlo. Ma per rispetto di chi ha fatto il lavoro non metto il non mi piace. Però fate come volete a me. Francamente non mi interessa. Comunque dicevo che sicuramente ci sarà qualcuno che dopo aver visto la mia foto con questa maschera dirà non mi piace ma siccome io sono una persona sincera e si mostra così com'è faccio vedere alla sera come sono con la maschera Bubble. E ve la faccio vedere. Questa è stata spettacolare. Buonissima. Buonissima. Sentite quando la mettete proprio il pizzicorio del siero con l'ossigeno che si... con il carbone che si gonfia tutto. Sembrate un panda. Vi farete una risata se non vi spaventate. E comunque questa mi è piaciuta. Mi è piaciuta tantissimo. E tra l'altro questo era un regalo di Lucia che poi ho visto e costa anche parecchio. Quindi grazie Lucy per questa maschera che si troverò in sconto soltanto. La comprerò perché mi è piaciuta veramente veramente tantissimo. E la pelle poi è davvero molto molto bella. Molto ossigenata. Poi, finito questo Yaluronic Fix di Revolution. Mi piacciono sempre tanto. Fanno il loro dovere. Nel senso che io poi faccio le prove quando vado in ufficio. Mi metto il pazzolettino sulla faccia per vedere se effettivamente funziona. Devo dire che per le prime 4-5 ore che ho il trucco tiene molto bene. Poi va bene. Chiaramente io avendo anche la pelle mista grassa ad un certo punto non tiene più. Però poi ritorno a casa. Magari se devo uscire mi do una spennellata con una cipra opacizzante. Quindi va bene. Comunque li avevo trovati anche in offerta. Non mi ricordo su che sito li avevo comprati. Forse su H&M mi era arrivato uno sconto del 25-30%. O H&M. Io lo dico in italiano. E non fatemelo dire in inglese come si dice perché non sono capace. H-E-M. E H-M. Dicono così, giusto? E quindi nulla. Li avevo trovati. Mi piacciono adesso ne ho un altro. E poi mi sa che devo comprarne uno perché di questi non ho molta scorta. Io non sono una che di make-up o di queste cose a tanta scorta. Piuttosto ho la scorta di cosmetici. E però mi è piaciuto. Poi finita questa The Bubble Double. Ottima. Anche questa entrerà nei preferiti dell'anno. Ve l'avevo già presentata nel mio primo video all'esordio di questo cammino alla ricerca di me stessa e della mia bellezza. Mi è piaciuta tanto. Questo è in vetro quindi lo terrò perché il dosatore Foam mi piace un sacco e sicuramente avrò modo di utilizzarlo per altri detergenti. E' buonissima. Non mi ha mai seccato la pelle. Comunque anche se è leggermente sfogliante e molto delicata. A me tutta la linea è piaciuta tantissimo. Era uno dei primi prodotti che io provavo di skin care coreana. E quindi devo dire che sono stata fortunata. E mi è piaciuta tutta la linea. Questo è stato veramente ottimo. Anche se il mio prodotto preferito è sempre la mista. Poi, tata, queste le faccio vedere in coppia. Allora, caro signor Sefra, mi rivolgo a lei. Questi due sieri sono davvero molto, molto, molto buoni. Perfetti per l'estate. Leggeri. Profumati alla frutta. Sono deliziose. Però, santi Dio. Questo erogatore dà il siero a tutto il mio bagno. Specchio compreso. Quindi non si potevano usare. E ho letto proprio sul sito di Sefra che ci sono tante persone che si sono lamentate. Ma davvero. Allora, questi due sieri sono molto, molto buoni. Leggerissimi. Perfetti per questa stagione. Molto idratanti. Profumati. Illuminanti. Costano una stupidata. Ma fate la pompetta. Contagocce. Questo dosatore, cioè, se lo mettevate così, inclinato, non scendeva. Se facevate così, io spruzzavo sulla mano ma andava direttamente sullo specchio. Cioè, impossibile da usare. Quindi, per me, sono un 10 elode per quello che riguarda il prodotto. Uno zero per quanto riguarda il packaging. Cioè, veramente inutilizzabili. Così inutilizzabili. Però, il prodotto era buono. Io mi sono trovata benissimo. Soprattutto in queste ultime due settimane di caldo li ho proprio finiti. Mi sono piaciuti. Avevano dei profumi veramente deliziosi. E sono veramente perfetti per chi non vuole spendere tanto nella sua skin care. Ma vuole dei prodotti carini, illuminanti, idratanti, profumati. Da mettere magari sotto alla crema per avere un po' più di idratazione o di luminosità. A me sono piaciuti tantissimo. Però, ragazzi, cioè, non si potevano usare con questo pack. Proprio impossibile. Bien. E purtroppo, va qui, questa l'avete vista 70 volte e questa proprio l'ho finita. Mi spiace. La terrò di ricordo perché è stata una delle maschere peeling che mi è piaciuta di più tra quelle che sto provando. Mi è piaciuta davvero tanto. Non l'ho più trovata. Spero di trovare qualcosa che sia altrettanto valido. Questa entrerà, come ricordo, nei preferiti dell'anno. Ma davvero mi è stata una maschera che mi è piaciuta tantissimo. Illuminante. Faceva un peeling meraviglioso. Pazienza. 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 E anche questa finita. E questo. Allora. Ne ho già uno in scorta. Perché quando l'ho comprato per la prima volta su YesStyle, all'inizio del mio cammino verso la bellezza, non ce n'è proprio neanche più. Questa è una maschera notte. Buonissima. Una maschera notte. Vediamo se riesco a leggere se c'è qualche cosa. Alla vitamina E, niacinamide, adenzoine, non vedo nient'altro, della Klairs, penso sia un marchio coreano. Io mi sono trovata benissimo. La consistenza della gelatina panna cotta. Voi qui dentro avete una porzioncina di panna cotta. Che dura un'eternità. Perché io la facevo due volte a settimana. L'ho comprata a gennaio, mi è durata fino all'inizio di questo mese, del mese di maggio. Buonissima. Un profumo delizioso, agrumato, fresco. Sulla pelle lasciava uno strato... Sì, come se fosse gelatina, gelatina d'uva. Non lo so, mi è piaciuta davvero tantissimo. Ne ho comprato poi un altro, sempre. Questa l'avevo trovata su YesStyle, l'avevo provata così. E poi l'ho comprata comunque su Nuvole di Bellezza e ce l'ho lì. E lo sto usando e mi era piaciuta... Cioè, mi è piaciuta davvero tantissimo. Quindi adesso sto usando altre maschere, ma poi la riprenderò. Buona, buona, buona. Sono molto carine queste mini taglie, perché se si vuole conoscere un prodotto e non si sa assolutamente se è sulla pelle, se è sulla nostra pelle, va bene. Usando queste mini size, spendiamo poco e se poi il prodotto ci piace possiamo comprarci la full size. Quindi io consiglio sempre se non conoscete bene la vostra pelle, non conoscete bene i prodotti. Io all'inizio ho comprato un po' di mini taglie e poi vabbè, se vi piace, comprate la full size. Questa comunque io ve la consiglio. Ottima, ottima, ottima. Una maschera notte veramente stupenda. Buona, buona, buona. Non so se si vede. Ecco, no, si vede da qua. Eccola qua. Ottima, ottima, ottima. Veramente buona. Boom. Finiti da Lucia questi strip per i punti neri, che lei dice essere i migliori. E finiti anche questi che erano al carbone attivo e si è trovata benissimo. Quindi questi, se andate al DM e avete dei figli che hanno delle piccole imperfezioni o anche soltanto voi che volete, avete magari ogni tanto un piccolo brufoletto così, queste funzionano, ma funzionano, funzionano davvero. Sono proprio buoni e costano, non ricordo se, 0,99 o 1,49. Comunque giù di lì. Buoni, buoni, buoni. Via. Questi, come vi dicevo, erano i patch in hidrogel dorati, avevano un colore dorato. Buonissimi, buonissimi. Io li ho fatti una sera che ero particolarmente stanca e c'era particolarmente caldo. Avevo gli occhi quasi gonfi, li ho messi in frigorifero una o due orette prima. Cioè, fantastici. Allora, hanno ovviamente un effetto momentaneo, però davvero vi regalano un momento di freschezza, di coccola stupendi. Mi sono piaciuti, mi sono piaciuti proprio tanto. E questi, appunto, come vi dicevo, li avevo trovati in offerta alla Kiko, mi pare, un 2-3 settimane fa. Sono molto molto buoni. Con il miele, estratto di miele. Sì, con estratto di miele. Punto. Buoni. Li ricomprerò, se li trovo ancora in offerta, sì. Finito. Vi ricordate il mio primo bocciato? Che era un contorno occhi che avevo trovato in offerta, perché non costava neanche poco, eh? Di bottega verde, rosa muschetta e burro di karité, se non ricordo male. Elasticizzante, vitamina E, pro-retinolo. Beh, allora, questo grattava. Alla fine me lo sono fatto come scrub. Sulle labbra grattava. Era veramente fastidioso, però ha funzionato. Come scrub sulle labbra alla sera, io lo mettevo prima di andare a letto e devo dire che le pellicine mi sono sparite tutte. Quindi, per quella funzione lì, ok. Come contorno occhi, no, perché praticamente vi scartavitrava il contorno occhi. Non mi è piaciuto per quella cosa lì. Poi vabbè, sulle labbra va bene. Anche se, vabbè, il profumo non è che era proprio buonissimo. Comunque, preso, finito, non comprerò mai più. Questo l'ho finito nel senso che l'ho buttato via. Era lì da troppo tempo. Aveva un odore cattivo, quindi l'ho svuotato. Anzi, non l'ho finito di svuotarlo neanche bene e è buono. Cioè, questo è per dirvi quanto io uso i prodotti stroccanti per gli occhi. Quindi, vabbè, niente. Poi, questa l'ho trovata, anche questa è in offerta all'Iperal. Buona, buona, buona. Profumo di cocco si sentiva davvero tanto. Era talmente impregnata di siero che ho fatto fatica ad aprile. Avevo paura quasi di romperla perché ce n'era veramente tantissimo. Io, come vi ho detto, amo i prodotti con il siero. Non mi goccerano quasi mai. Avete visto che ho rifatto i colori. Ho trovato una maschera che tonalizza ancora di più. Mi piacciono. A mia mamma no perché dice che sembro vecchia. Invece a me piacciono. Comunque, vabbè. E nulla, anche questa mi è piaciuta. Il profumo di cocco si sente tanto e mi piace. Mi piace con acido lialuronico. Ho lasciato la pelle veramente molto molto morbida, nutrita. Buone. Buone, buone, buone. Poi. Sensitive. Maschera in tessuto idratante intensiva con vitamina B5 lenitiva. Anche questa mi è piaciuta. Un po' meno delle altre, devo dire. Era un po' scarna di siero per me. Però ha fatto il suo dovere. Insomma, l'avevo messa una sera che ero ritornata da una gita. Avevo preso un po' di sole. Ero un po' arrossata. E devo dire che mi ha proprio calmato il rossore. Quindi, buona. Non costano poco queste maschere. Se le trovate in sconto, ok. Ma altrimenti ce ne sono di altre che costano molto meno. Sono buone. Siero alla vitamina C di Balea. Il primo siero alla vitamina C che ho finito. Mi è piaciuto. Profumo delizioso. Un siero in crema. C'è ancora un pochino? No, non c'è proprio niente. Vediamo. Non l'ho proprio prosciugato. Profumo delizioso di arancia. Molto morbido. Illuminante. Che dire. Per il prezzo che l'ho pagato, ha fatto sicuramente il suo dovere. Se dovessi trovarlo ancora, lo ricomprerei perché mi è piaciuto proprio tanto. Ottimo. Finito. Questo latte corpo di Yves Rocher al mango e al coriandolo. Fantastico. Fantastico. Fresco. L'ho apprezzato soprattutto. L'ho finito 4-5 giorni fa. L'ho apprezzato soprattutto nel momento di calura che è scoppiato due settimane fa. Lascia la pelle freschissima. Idratata. Veramente molto idratata. E profumata. Cioè questo ha un profumo di mango che, ragazzi, buono. Stavo facendo così per farvelo sentire, ma sarò deficiente. Buono, buono, buono. Mi è piaciuto davvero proprio tanto, tanto, tanto. L'ho spremuto fino all'ultima goccia andando dentro con la pipetta e tirandolo fuori. Buono. Buono, buono, buono. Al momento i prodotti di Yves Rocher che sto utilizzando mi piacciono, mi piacciono tutti. Poi arriverà anche quelli che non mi piacciono. Comunque buono. Davvero buono. Se lo trovate scontato, prendetelo. Secondo me è perfetto per questa stagione. È davvero molto, molto, molto rinfrescante. Oltre che un profumo delizioso, ovviamente, se vi piace il profumo. Poi, la Lucy ha finito questa maschera per i capelli. Non si è fatta vedere perché, allora, è una maschera in crema. E poi c'è la cuffietta a forma di ananas. Gliel'ho regalata io per i 18 anni. Gli ho regalato un po' di prodotti. Poi gli abbiamo regalato una serata al Teatro Arena all'aperto di Como con uno spettacolo teatrale che andremo poi a vedere. E poi gli ho regalato un po' di prodottini, così, insomma. E questa ha la cuffietta a forma di ananas, carinissima, che lei si è tenuta. Molto buona. Un profumo di ananas sui capelli, meraviglioso. Sono carine queste maschere, sono anche divertenti, insomma. Niente di particolare, ma sono, se volete fare dei regalini, sono molto divertenti. Maschera ottima. Non ricordo se io ve l'avevo già fatta vedere, ma comunque, o se questa l'ha utilizzata anche la Lucia. Secondo me è una delle migliori maschere che io ho provato. Mi sembrava, sì, ma ve l'avevo fatta vedere forse la volta scorsa. Però questa l'ha usata la Lucia. Comunque, buonissima. Lascia la pelle morbidissima, morbidissima, come se voi avesse fatto il bagno nel latte. E' uno spettacolo. Davvero buonissima. Neutromed 4.5. Buono, anche lui. Profumo delicato. Classico di detergente intimo. Non troppo intenso. Buono, insomma. Io questi li prendo, ne prendo di qualsiasi. Quando trovo in offerta li prendo in generale. Cioè, o per me, o per i ragazzi, o per Paolo, vanno sempre bene. Finiti questi maxi dischetti della Primia. Che avevo preso a 0,99. Ottimi. Anche qui sapete che quello che trovo in offerta prendono grandi aspettative. L'importante è che non si sfaldino. Questi invece sono quelli che trovo al Chigotà della Vilea. Quelli belli grandi. I quadrotti sono giganti. Mi piacciono. Finita. Finito il burro struccante di Iepoda. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto proprio tanto. Il vasetto lo otterrò perché mi piace tanto. Ci metterò magari i fermapunti della maglia. O quello che comunque è un peccato buttare via questo vasettino di vetro. Mi è piaciuto tanto. Pensavo fosse il burro migliore del mondo. Invece ne ho scoperto un altro che sto utilizzando adesso. Che mi sembra ancora più buono. Sicuramente poi ne ritroverò degli altri. Perché questi burri struccanti ne uso, ne apro uno alla volta. Perché poi ho paura che si irrancidiscano. E quindi li uso così. Quello che sto usando adesso è spettacolare. E poi ve lo farò vedere in un prossimo video dei preferiti. O della skin care serale. Niente, questo comunque è un ottimo prodotto. Un ottimo prodotto ve l'avevo già anche mostrato quando vi avevo fatto vedere la mia skin care. Quindi nulla da dire. Vedremo se andrà nei preferiti. Non sono sicurissima. Paolo ha finito questo shampoo e balsamo 2 in 1 antiforfora. 2 in 1 antiforfora riequilibrante della Conad. Linea Essenzia. Essenzia? 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 Boh. Buono. Il profumo è molto molto buono. Tutta questa linea mi piace tantissimo. Paolo si trova bene e gliela compro, gliela compro spesso. Abbiamo anche il bagno schiuma, ho provato anche il detersivo intimo, il detersivo, il detergente intimo. Quindi è un'ottima linea che troviamo alla Conad. Buona. Idrabomba, che altro vi devo dire, non vi dico più niente perché ormai lo sapete, il mio amore è folle per queste maschere. E niente, sono buone. Sono ottime. Tutte queste andrebbero nelle maschere preferite dell'anno. Questo, non mi ricordo più che cos'è, una maschera era? No, questa era una, sì, era una maschera per capelli che mi era arrivata in omaggio da Pinalli, che avevo fatto un acquistino, che forse non vi ho fatto vedere, no. Allora, non so dirvi nulla, nel senso che dopo un'applicazione non saprei cosa dire, era una maschera per capelli colorati, al momento è andata bene, però bisogna provarle, insomma, per un po' più di tempo. Comunque l'ho usata e mi era piaciuta. Pelli secche e sensibili, questa era una maschera della Nivea, se non ricordo male, che avevo trovato in offerta a Liberal, mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo, era al miele, delicatissima, profumatissima, mi ha lasciato la pelle bella, morbida e luminosa. Ho visto che sono in offerta ancora adesso, quindi magari una, giretto, oggi non l'ho presa perché c'era la mia mamma, non potevo comprare queste cose. Però mia mamma si è comprata il latte detergente e il tonico, si vede che ha detto, mia figlia e mia nipote fanno queste cose, allora mi ha chiesto consiglio e le ho fatto comprare due lati, un latte detergente e un tonico, non troppo costusi perché mia mamma non vuole spendere su queste cose, vabbè. A 75 anni comincia a curarsi la pelle, insomma. Niente, questa mi è piaciuta tanto e quindi ve la consiglio. Finito il mio contorno occhi per palpebre e occhi delicati del Avene, mi è piaciuto sì, per il costo che ha posso anche trovare di miglio, se devo essere sincera, niente. Se dovessi ritrovarlo in sconto lo compro, altrimenti no perché costa parecchio e sì, è vero che lo metto solo sulle palpebre, però vabbè. Adesso per esempio sto provando uno che non è per pelli sensibili, per palpebre delicate, che è quello di Nakomi, ma devo dire che non mi dà assolutamente nessun tipo di fastidio, quindi potrebbe anche essere che magari o sono guarite e sono diventate meno irritabili, meno sensibili, oppure anche che questo contorno occhi sia adatto alle mie palpebre. Quindi adesso vediamo un po', sto studiando un pochettino. Finito questo campioncino che mi aveva regalato Elisa in un ordine che avevo fatto, è acido ialuronico, gel all'acido ialuronico di mossa, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Adesso sto finendo il Mineral 89, poi sicuramente inizierò quello di Madara che avevo comprato nei regali che mi aveva fatto Miama per il compleanno, ma questo lo tengo sicuramente nei preferiti perché sarà il prossimo che comprerò. Mi è piaciuto davvero tantissimo, tra l'altro questo piccolo campioncino che ho praticamente finito, mi è durato per 4-5 applicazioni, quindi ne basta veramente. Era molto denso, come se fosse una gelatina, una gelatina di mele, avete in mente, ecco, fantastico, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Grazie Elisa, l'ho finito, l'ho finito, l'ho finito, è stato uno dei miei profumi preferiti. Mamma mia come mi piace, non c'è più niente, niente. Buono, buono. Profumo, non so come si dica ragazzi, plate, please, plate, please, plat, please, vabbè, fate voi, come cavolo sia. Un profumo, issei, miyake, fantastico. Comunque, so che è famoso, è abbastanza famoso, mi è piaciuto. Fresco, mi ha profumato. L'ho comprato l'anno scorso d'estate, l'ho usato praticamente fino quasi alla fine di ottobre, poi essendo abbastanza fresco l'ho lasciato lì, l'ho ricominciato a marzo e nulla, l'ho finito. L'avevo trovato in offerta, mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, se dovesse ritrovarlo, a parte che adesso ho comprato altri profumi, non va veramente. Che buono. Buono, mi è piaciuto davvero tanto e nulla. È bello fresco, fresco ma profumato, rimane, a me rimane anche per qualche ora, nel senso che quando poi io mi accorgo se sento il profumo, compro qualche ora, perché quando vado nel bagno del mio figlio, nel bagno del lavoro, insomma, della mia azienda, poi riesco e rientro e sento il profumo. Quindi vuol dire che io ne metto veramente in abbondanza, ma sono così, ho i profumi, me li spruzzo ovunque e dappertutto e sempre, anche se sono in casa ciabattata e vestita da sguattera, ma il profumo è una cosa che non può mai mancare. Bene ragazzi, ho finito, finalmente mi pare che ci sia trattato un bel po' di materiale finito, adesso faccio la divisione tra carta, plastica, pulisco quello che devo pulire così, butto via tutto e siamo pronti per un prossimo video di prodotti finiti. Devo fare quello dei prodotti finiti della casa, perché c'è qualche prodottino davvero molto molto interessante, mi aspetto di averne qualcuno di più. Io da la famosa cittadina manzoniana, lecco sul lago, lo sapete che è famosa per il manzoni, anzi invito tutti a, questo lo dico veramente, perché io abito qui da sempre, sono nata qui, quindi non mi accorgo delle bellezze del lago e delle bellezze dei luoghi manzoniani, anche se dovrebbero un attimino curarli un po' di più, promuoverli un po' di più, perché fanno parte della storia, ma della storia italiana, perché appunto i Promessi Sposi sono famosi, non dico in tutto il mondo, ma quasi. Quindi ci dovrebbe essere un po' più di attenzione per questi luoghi che, così, hanno dato vita a questo romanzo che per me è davvero meraviglioso. Letto poi, con il senno di poi, da adulta, mi è piaciuto tantissimo, una bellissima storia d'amore e ci sono dei bellissimi posti qui a Lecco, i luoghi manzoniani, e quindi se qualcuno vuole venire a Lecco e mi manda un messaggino, ci prendiamo un caffettino insieme, molto molto volentieri. Se siete arrivati fino a qui, e so che sarete sicuramente pochi, perché quando i video sono lunghi, alla fine non si arriva quasi mai, se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un pollice in su, se non vi è piaciuto non siete arrivati fino a qui, so che tante persone guardano il video perché lo vedo dalle visualizzazioni, se volete iscrivervi a me fa veramente molto piacere, così potete sostenere gratuitamente il canale e possiamo fare tante belle cose insieme e diventare una piccola community disordinata, come sono disordinata io. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti, ciao!